Un archeologo, nel 1928, ritrova delle tavolette egizie e un enorme anello di metallo. Ai giorni nostri Daniel è un egittologo di fama, ma le sue convinzioni sulle origini dell'antico regno egizio non vengono prese in considerazione. Solo la figlia dell'archeologo gli dà fiducia. Con l'aiuto di un colonnello riesce a costruire, con l'anello metallico, un dispositivo capace di creare tunnel spaziali, rendendo possibile il trasferimento di materia tra due punti nello spazio scoprono una civiltà egizia futuristica, ma con la schiavitù e la presenza di una principessa cattiva. Ma non è detto che gli Stati Uniti non possano aiutare e colonizzare anche le civiltà galattiche. Daniel troverà anche l'amore.